molto importante perché cade e ho la fortuna di poterlo fare io direttamente nel momento del mio mandato da presidente e questa questa occasione della festa è anche una festa di grande responsabilità per chi ha voluto e ha fondato il consorzio per le sfide e gli obiettivi che noi abbiamo per il futuro questo consorzio ha una importanza fondamentale nelle nostre economie intanto rappresenta oggi il più importante consorzio delle dopo europee per noi è importante perché 12 mila aziende ricavano il reddito dalla nostra attività i nostri successi e i nostri obiettivi la nostra crescita hanno una ricaduta importante sulla nostra economia ecco perché questo grado di responsabilità noi lo vogliamo portare avanti con senso di punto di responsabilità ma anche cercando quegli obiettivi che oggi sono necessari per creare per la stabilità quella tranquillità per il comparto che per noi è l'obiettivo primario oggi noi abbiamo la responsabilità appunto di proseguire con la storia lunga di 40 anni che è una storia che per noi per noi è stata una storia di crescita per noi è l'obiettivo della crescita è l'obiettivo per il futuro il futuro per noi è creare quelle condizioni di stabilità necessarie perché questo comparto questi produttori che tra l'altro dentro il nostro consorzio sono la maggioranza i produttori di latte attraverso le cooperative continuano una strada di crescita di stabilità Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!